Salva gente, dai che ora riparte sto campionato, veramente ragazzi, sta sosta due palle ci ha fatto, sì va bene la nazionale, però questa nazionale non c'ha pill per quanto mi riguarda, perché troppi esperimenti, ancora diciamo un caos nella selezione dei giocatori, poi uno non viene preso per un motivo, uno non viene preso per un altro, insomma sembra quasi che vogliamo essere autolesionisti, è una nazionale che a me non piace in questo momento, magari riprenderà quota nella mia valutazione quando finalmente Mancini farà pace col cervello e metterà almeno 7-8 titolari e poi magari qualcuno da provare, perché così ogni volta cambia e non riesco veramente a stargli appresso, quindi zero affetto in questo momento per la nazionale attuale, nonostante la seguo e la guardo e quindi voglio rivedere il campionato, il campionato anche perché sono cresciuto ragazzi che la domenica ci deve stare la partita del campionato, io sono cresciuto con le schedine che si strappavano di carta, che ricompilavi, veniva quello che ha la bacchetta di legno, il tabaccaio là che tu lo strappava, cioè altri anni, altra cosa, il calcio è cambiato, però insomma mi manca, mi manca la partita domenicale di campionato. Comunque sta per riprendere, questo video in realtà però è ancora legato a quello che è il fanta mercato del Lazio, perché ancora escono nomi e poi perché mi avete segnalato su Instagram, sul nostro famoso 76, anzi vi dico anche andate su Instagram al nostro famoso 76, iscrivetevi qui, andate e iscrivetevi, cliccate su iscrivetevi, cliccate sulla campionina per venire aggiornati, ragazzi potete sempre disiscrivervi quando volete, quindi provatevi, non costa nulla, io poi non sono che fan video ogni giorno, o due o tre video al giorno, non vi rompono nemanco troppo le palle, provateci, iscrivetevi, al massimo leverete l'iscrizione subito dopo. Un like sempre, comunque è gradito, fallo subito prima di lasciare il video, un bel like, grazie. Ragazzi, allora, perché questo video? Perché molti mi avete fatto notare che io non ho parlato di Zialischi, diciamo, ma Zialischi non hai detto niente, hai parlato di un sacco di nomi, di quello diciamo più importante che potrebbe arrivare, non ne hai parlato, io vi dico, sono sincero, mi sono scordato di chiedere di Zialischi al contatto, cioè quando gli ho dato tutta la lista dei nomi, io a Zialischi mi sono proprio scordato, e quindi non avendo ricevuto informazioni in merito, non ne ho parlato. Però cosa è successo? Nel frattempo è uscito anche il nome di Frattesi, quindi ho preso la palla al barzo e ho rimandato, diciamo, un messaggio per chiedere, ma che c'è davvero tra Zialischi e Frattesi, insomma, veramente potrebbe arrivare uno dei due così, e ho aspettato la risposta che è arrivata qualche minuto fa. La risposta, diciamo, una me l'aspettavo, l'altra il nome era nuovo, quindi non sapevo cosa aspettarmi realmente, però quello che ho ricevuto di risposta semplicemente è questo, Zialischi ha veramente quasi lo zero di possibilità di venire, per un motivo molto semplice, perché la Lazio non ha intenzione di investire tanti soldi su un giocatore di 29 anni, per due motivi, uno perché se dovesse rivenderlo non lo potrà rivendere, perché comunque dopo i quattro anni di contratto ha un'età che non c'ha mercato a quell'età, diciamo, da poter rientrare in una somma così alta, quindi non è rivendibile come la Lazio vorrebbe, e avendo 29 anni non gli copre uno spazio temporale tale da poter ammortizzare nel tempo, ovvero un giocatore che ti può coprire quel ruolo per otto anni. La Lazio sta appuntando a giocatori di un massimo 25-26 anni massimo, quindi rifare, rimettere mano nella rosa, ma con giocatori molto più giovani, quindi diciamo entro i 25 anni se possibile. E in questo senso, fra tesi, entrerebbe molto di più di Zielischi. Zielischi ha 30 milioni, perché poi Napoli, Zielischi è un po' come Milinkovic, cioè scade nel 2024, non è la scadenza 2023, quindi Napoli ti dice, io o me lo tengo o me lo paghi, come lo dito pretende da Milinkovic, o me lo tengo o me lo pagate, poi vabbè Milinkovic lo valuta 60-70 milioni una follia, soprattutto perché appunto va nell'ultimo anno e poi in scadenza. Quanto o meno il Napoli dice che chiede 40, ma in realtà realmente sta tra i 25 e i 30 milioni la valutazione reale che potrebbe raggiungere Zielischi. In questo senso non è neanche troppo, diciamo, visto l'importanza che avrebbe per Sarri, ma ripeto, è l'investimento più alto che avrebbe fatto la Lazio per un giocatore che comunque non gli ridà né a livello di tempo né a livello di rivendita poi delle garanzie. Quindi è un giocatore che non rientra in questi parametri che ha la Lazio adesso di mercato. Scordatevelo, cioè me l'hanno dato quasi per certo, cioè veramente, a meno che non si trova una formula e arriva che la Lazio praticamente paga due soldi, allora investe sullo stipendio, perché anche lo stipendio sarebbe un problema anche a 3 milioni e mezzo. E poi ripeto, a 3 milioni e mezzo secondo me, ma questo è un mio parere, a me il contatto non si è sbilanciato in questo, ma per me sì. Cioè per me a 3 milioni e mezzo gli ridà il Napoli. Cioè un Napoli che vince lo scudetto, Zielischi sarà meritevole di avere un rinnovo almeno a 3 milioni e mezzo? Io penso di sì, quindi perché dovrebbe andare via? È vero che lui ha aperto la Lazio dicendo che se non dovessi per qualche motivo rinnovare qui, la prima scelta potrebbe ricadere sulla Lazio, ma se ci sono le condizioni, mi dicono no, non ci sono le condizioni, perché a me sono un concesso che si può fare il sacrificio di arrivare a 3 e mezzo a Zielischi e quindi alzare di molto quelli che è la media stipendi della Lazio, arrivare proprio al top, ma a me sono un concesso che gli vogliamo dare il top perché lo prendiamo da una squadra che ha vinto lo scudetto, come è successo per esempio per Romagnoli, il problema di fondo è che comunque oltre al stipendio top devi sganciare 25-30 milioni e non è fattibile perché la Lazio non li ha mai spesi e se li devi spendere non per un giocatore di 29 anni, anche se è il sogno di Sarri, anche perché Sarri potrebbe rimanere un anno e poi andare via, perché st'altro anno molti di voi hanno detto ma forse Sarri manco rimane, no, st'altro anno rimane, anche perché o professore, chi segue il canale lo sa per questo dovete seguire il canale, sa che quest'estate o professore quello che ho incontrato su Anave ha detto no, no, a Sarri dovete dare almeno 3 anni perché Sarri al terzo anno porterà i risultati, quindi io questa previsione me la prendo qui nel cuore, quindi Sarri deve rimanere e portarci qualcosa a suo terzo anno. Però poi potrebbe andare via, quindi Zielischi lo prendi ma poi è il sogno di Sarri, ma poi se va via Sarri e cacchio è tutt'uno, quindi me l'hanno bocciato. Invece, per quanto riguarda frattesi, rientra nei parametri in qualche modo, nel senso ha un'età che potrebbe sia darti la possibilità di essere rivendibile, perché se lui ti fa solo 4 anni comunque dopo avrà 29, adesso che c'ha, tipo 24-25 anni, 24 anni credo che abbiano, quindi tu a 28 anni potresti anche rivendertelo dopo i 4 anni di contratto, no? O, in alternativa, come spesso fa la Lazio, la Lazio tende a tenere i propri giocatori, quindi a prolungare per altri 4 anni, e a quel punto tu fino a 32 anni ti ha coperto 8 anni frattesi, e allora sì che ti hai ammortizzato il costo. Un costo che comunque per la Lazio continua a essere eccessivo, perché 30 milioni per la Lazio, per un giocatore singolo, sono tanti, ma no, ma perché soprattutto? Perché la Lazio dovrà comunque non prendere solo frattesi, e gli serviranno anche altri giocatori, quindi non andrà a spendere, anche se entra in Champions, anche se vende Mininkovic, difficilmente il suo obiettivo sarà spendere 30 milioni per un giocatore, quindi l'intenzione della Lazio è sì, puntare anche su frattesi perché l'interesse c'è, ma di far scendere il prezzo, in che modo? Non si sa, perché fondamentalmente, anzi ragazzi, a me mi hanno sempre detto, l'ho parlato anche con voi fino a poco tempo fa, che Marco Santonio non si muove, in realtà vorrebbero metterlo, mi hanno detto adesso che probabilmente potrebbe anche rientrare in una trattativa per far abbassare il prezzo, quindi mettere in mezzo Marco Santonio, però è l'unico modo in cui Marco Santonio può uscire, cioè in questa trattativa, altrimenti Marco Santonio resta, però si dice che la Lazio vorrebbe puntare magari a mettere in mezzo a Marco Santonio per arrivare a frattesi, però mi sembra che prima di noi, la Roma sono due anni che ci prova a far scendere questo prezzo dei 30 milioni di frattesi, ma non mi sembra che ci sia riuscita, con tutto che il giocatore spingiva moltissimo per tornare alla Roma, eppure non ci è riuscito nel giocatore e nella società, e la Roma anche offriva delle contropartite per abbassare il prezzo, ma il Sassuolo non ha ceduto, quindi è difficile, per quanto rispetto a Zelitsky, ripeto, c'è almeno un parametro che è quello dell'età che alla Lazio interessa molto, non solo, sapete benissimo che lo dito adesso, si è messo in testa anche, perché anche Sarri ne ha parlato, ovvero di fare una Lazionale, ovvero di una Lazio che potrebbe dare giocatori alla Nazionale, in primis, ma soprattutto una Lazio molto italiana, molto nazionale, molto italiana, perché? Perché vuole dare un esempio che si può fare bel calcio, in Italia, ma anche all'estero, con dei giocatori validi italiani, quindi adesso lui si è messo in testa questa cosa, e frattesi è per questo che viene contattato, perché è un ottimo centrale, che alla Lazio serve, e serve appunto per questo progetto di italianità laziale, però ripeto, mi dicono che però il costo è proibitivo, perché la Lazio deve fare altri acquisti, e 30 milioni, ripeto, o si trova una formula inserendo qualche giocatore, o frattesi, sì, c'è l'interesse, ma diventa difficile, molto più veritieri potrebbero diventare altri giocatori, diciamo, di prospetto, però Sarri non vorrebbe giocatori di prospetto, ma vorrebbe giocatori già pronti, e qui c'è un po' il, diciamo, la discordia tra chi, come tale, vorrebbe mettere, spendere di meno, e dare più possibilità a giocatori futuribili, e rispetto a Sarri, che invece, ormai vuole giocatore pronti, e frattesi rientra tra questi. Però ripeto, Zielischi me l'hanno praticamente bocciato, frattesi c'è qualche possibilità. Mi è stato fatto poi il nome, che è uscito anche sui giornali, di Gagliardini, ma Gagliardini non sarebbe, sarebbe una riserva, sarebbe il Basic che esce, e il Gagliardini che entra. Questo perché? Perché si andrebbe comunque a migliorare, secondo le caratteristiche di Gagliardini, e secondo quello che ha fatto Basic, diciamo, sulla carta si andrebbe un pochettino a migliorare, il reparto di centrocampo, a zero però, cioè uno esce, e magari mesce per qualche milione, e io riesco a prenderne uno a zero. Il fatto che Gagliardini stia a zero, in realtà interessa molto alla Lazio, e comunque non è la prima volta, ragazzi, che Gagliardini viene messo, nel centrocampo della Lazio in questi anni, solo che questa volta a zero, quindi la Lazio punta, in realtà mi dicono che la Lazio sta puntando su Gagliardini, da inserire in organico. Gagliardini dal lato suo però sa che viene una squadra dove, comunque Vesino ha fatto comunque un buon percorso, era partito da riserva, poi si è ritrovato spesso quasi titolare, e comunque è una squadra che probabilmente giocherà in Europa, è una squadra importante, avrà le sue occasioni. Questo lo dico perché? Perché Gagliardini viene accostato alla Salernitana, al Monza, sicuramente il Monza ha un progetto anche ambizioso, potrebbe anche essere stimolante per Gagliardini, a Salernitana, cioè Gagliardini che ci va a fare a Salernitana con tutto rispetto, cioè, io penso che sia più stimolato a rilanciarsi, come ha fatto Vesino, una squadra come la Lazio. Quindi, però ripeto, è un giocatore di, è un giocatore così, non principale nel mercato della Lazio, però è comunque una pedina di rinforzo, nel momento in cui vai a togliere Basic, e mettere un giocatore più pronto per il campionato italiano, e sicuramente secondo me anche più valido come Gagliardini. Certo, non è il top, però pure Vesino, ho sentito tante critiche, quando io avevo Vesino, ho detto a me, un giocatore è un acquisto che a me sembra intelligente, che mi è piaciuto, e penso che Gagliardini possa fare uguale, nel senso, se c'hai soldi da spendere per prendere meglio, esce Basic, mi prendi un altro forte, è un conto, ma siccome che Lazio deve spendere molto, perché Pilinkovic dovrebbe andare via, e devi rimpiazzarlo, devi mettere uno forte al centro del centro campo, devi prendere non un vice immobile, ma un nuovo immobile, insomma, sono tre ruoli importanti, poi che facciamo con Pellegrini, c'è lui o non è lui, comunque sempre sui 15 milioni di venda spende, perché o li spendi per prendere il cartellino di Pellegrini, o li devi spendere convincendo magari l'Empoli adatte Parisi, insomma, di soldi anche quest'anno ne devono uscire tanti, è normale che un'operazione Basic fuori dentro Gagliardini, serve più che altro, perché è un parametro zero, e magari due soldi da Basic invece ce li prendi, questo è, questo è quanto ragazzi, allora avete detto le cose, spero di essere stato chiaro, vi ripeto, questo mi hanno riferito, scusate se mi era passato, proprio sfuggito di mente la cosa, però ripeto, non ho approfittato, perché oggi almeno abbiamo avuto anche informazioni, per il discorso frattesi, che è reale però, non è una di quelle cose scritte così, che non c'è, è reale, l'interesse c'è, ma ripeto, l'interesse c'è perché si vuole creare una Lazio molto, molto italiana, e io spero per questo, che magari in questi discorsi, rientri anche un Orsolini ragazzi, io spero che Orsolini veramente possa, o entrare a prescindere, o magari sostituire con Caccellieri, non lo so, oppure prendere il posto di Luca Romero, se non dovesse rinnovare, insomma, per me Orsolini, se si sta facendo tutto questo discorso italiano, se entra un Cagliardini, a maggior ragione, deve entrare un Orsolini, certo, in quel caso l'Orsolini, bisogna pagarlo, ma vale secondo me i soldi attuali, che costa, ragazzi, ci vediamo presto con un prossimo video, e niente, olivetolce, grazie a tutti,